Musica Nuova stagione televisiva con Chiedi a noi, diritti e doveri. Toneremo insieme ad occuparci di tanti aspetti legati alla quotidianità, con nuovi professionisti che, come sempre, saranno in nostro aiuto su questioni inerenti diverse situazioni, da quelle del diritto sanitario al fisco, all'economia e alla famiglia, e poi ancora parleremo di mutui di diritto penale. Ma iniziamo con un punto fisso del nostro programma, l'Avvocato Giuseppe Placentino, presidente dell'Associazione Difesa Salute, che oggi ci parlerà dei contributi IVS. Eccoci qui di nuovo con il sottoscritto e con Difesa Salute a rispondere alle innumerevoli email che giungono alla redazione di Padre Pio TV e alla email di Difesa Salute, infochioccioladifesasalute.org. Invitiamo a mandare le email, man mano risponderemo, alcune però avranno una risposta solo per iscritto e senza, diciamo, la presentazione in rubrica in questa trasmissione. Specialmente quando si tratta di domande, diciamo che già sono state trattate più di una volta. Ora, oggi parlerò di un argomento che riguarda il processo tributario. Ovviamente non tutte le controversie di diritto tributario possono essere di competenza di Difesa Salute e quindi del sottoscritto, ma in questo caso è particolare questa controversia perché riguarda i contributi IVS, invalidità, vecchia e superstiti. Che cosa sono? Si tratta dei contributi che il datore di lavoro trattiene in busto a paga per il lavoratore dipendente. Sono dei contributi che riguardano l'IMSS perché si tratta di una sorta di premio assicurativo, perché l'IMSS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che cos'è alla fin fine? È un'assicurazione, come l'INAIL. Anche l'INAIL è un'assicurazione. Mentre l'INAIL assicura gli infortuni sul lavoro, l'IMSS assicura le malattie professionali, ma anche assicura una pensione di vecchiaia, una pensione di anzianità, oppure l'assistenza obbligatoria, l'assistenza sociale. Voglio dire, cioè quelle provvidenze per chi non ha le forze, non ha quella capacità di lavoro, per chi è invalido. Fatta questa differenza, dobbiamo dire che i contributi IVS sono molto importanti, vengono pagati dal datore di lavoro in quattro tranche annuali. Per la precisione, la prima rata è il 16 maggio, la seconda è il 20 agosto, la terza è il 16 novembre, la quarta è il 16 febbraio. Non andrò a tediare gli ascoltatori parlando tecnicamente di come si stabiliscono i contributi che il lavoratore dipendente deve pagare, ma mi occuperò di un fatto, di una fattispecie particolare. È giunta l'attenzione del sottoscritto una cartella di pagamento e degli avvisi di addebito relative ai contributi INVS che non sarebbero stati pagati da un lavoratore. Questo lavoratore quindi si è rivolto a questa associazione che ha notato fin da subito che cosa? In primo luogo che gli avvisi di addebito riguardavano degli anni 2007, 2008, 2013 e 2014 che sono in fase di prescrizione, cioè questi crediti si sono estinti per il decorso e il termine di cinque anni. E poi in più c'è una cartella di pagamento dell'anno 2013. Anche in quel caso, noi siamo nel 2019, c'è stata una prescrizione di questo diritto. Quindi ci siamo costituiti immediatamente dinanzi al giudice del lavoro perché quando si tratta di contributi per i lavoratori dipendenti, contributi IVS, la competenza non spetta alle commissioni tributarie ma spetta al giudice del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale. Questa è la definizione tecnica della sezione lavoro. Quindi abbiamo impugnato dinanzi al giudice del lavoro con tutte le ovvie conseguenze, anche dal punto di vista della praticità rispetto alla commissione tributaria che è un po' più ferraginosa, abbiamo impugnato questi atti, questi atti tributari, e abbiamo eccepito in primo luogo la prescrizione quinquennale e in secondo luogo abbiamo eccepito la mancanza di abisi bonari, cioè questo contribuente non aveva ricevuto degli abisi bonari o meglio, questo ci ha riferito, ovviamente noi successivamente vi terremo i dotti sull'esito del giudizio, però ripeto, facciamo presente che di regola i contributi IVS si prescrivono nel termine di 5 anni. Lo stesso discorso vale per gli abisi di addebito INPS, purché non ci siano, cioè degli atti interruttivi, questi atti interruttivi sono sufficienti per interrompere la prescrizione e quindi in qual caso l'intervento legale dell'Associazione Difesa Salute o di uno studio legale è inutile. Quindi attenzione, quando vi arrivano questi abisi di bonari o queste cartelle di pagamento, prima di pagare portatele da un avvocato tributarista competente in materia che potrà valutare se è imbuniali o meno. Dopo aver risposto alla precedente domanda, adesso vorrei occuparmi di un altro caso di invalidità civile che è giunto all'attenzione della nostra associazione. È successo questo. Un signore della provincia di Foggia ha ottenuto un verbale di invalidità o certificato di invalidità nel quale era indicato il 70% di invalidità civile senza quindi diritto né alla pensione di inabilità e neppure all'indennità di accompagnamento. Le patologie erano tante, avevamo anche una valutazione multidisciplinare relativa appunto allo svolgimento degli atti quotidiani della vita, quindi possiamo dire che c'era un corredo che avrebbe indotto a modesto parere di difesa salute al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Questo non è avvenuto. Tuttavia, abbiamo subito notato che il signore aveva più di 67 anni, ha più di 67 anni. Per questo motivo l'unico ricorso plausibile è quello per l'indennità di accompagnamento. Abbiamo proposto questo ricorso al giudice del lavoro della previdenza e dell'assistenza sociale competente e in questi giorni verrà fissata l'udienza. Ricordiamo ai telespettatori che quel verbale va impugnato entro sei mesi dalla data di ricezione ed è importante stare attenti perché decorso il termine di sei mesi il ricorso è improcedibile per una decadenza ope legis di legge. Aggiungerei un'altra cosa. Quando presentate per un vostro caro una domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento io consiglio sempre di rivolgersi a un geriatra oppure a uno psichiatra o a un neurologo che ha il compito di redigere i test di valutazione dell'autonomia personale. Quindi prima di andare dinanzi alla commissione la commissione medica integrata ASL-IMPS premunitevi di questi test che corrispondono all'acronimo IADL oppure ADL sono due test importanti perché vanno a valutare ovviamente una volta somministrati da un operatore medico di solito un medico appunto vanno a valutare qual è l'autonomia nello svolgimento di alcune azioni strumentali della vita per esempio uscire di casa fare la spesa guardare la televisione questi sono degli esempi più è basso il punteggio più si ha diritto all'indenità di accompagnamento per quanto riguarda invece i problemi psichici esiste il test MMSE che anch'esso è un acronimo un acronimo inglese che indica che valuta cioè le capacità mnesiche di memoria di un soggetto che ovviamente qualora per una malattia neurodegenerativa non possa più adempiere le sue normali funzioni cognitive avrà un punteggio basso e questo punteggio servirà per il riconoscimento dell'indenità di accompagnamento un'ultima notazione per quanto riguarda invece le malattie neoplastiche purtroppo dobbiamo affrontare questo tema quello dei tumori che ha questi problemi nel momento in cui si presenta dinanzi alla commissione è importante che sia sottoposto alla valutazione di Karnoski è un medico questo Karnoski che aveva diciamo indicata una scala una scala molto importante nella quale scala più il punteggio è basso e più è possibile avere l'indenità di accompagnamento se il punteggio è per esempio 10, 20, 30 siamo al limite dell'indenità di accompagnamento vuol dire che il soggetto ha dei rischi è ancora in follow up quindi non ha la sicurezza di essere uscito dal rischio e quindi in questo caso deve essere riconosciuto l'indenità di accompagnamento se invece l'indice di Karnoski è alto facciamo un'ipotece 80, 90 in quel caso non si ha diritto all'indenità di accompagnamento perché per vostra fortuna alzandoci l'indice la possibilità di una valutazione quad vitam cioè di un rischio di vita diciamo che si abbassa un'altra notazione relativa a questo è che in un primo momento quando c'è una malattia neoplastica la commissione facendosi forse forte del decreto ministeriale 5 febbraio del 92 che cosa fa? riconosce il 100% perché un codice di quel decreto ministeriale quindi delle tabelle di invalidità civile dice che alle neoplasie con prognosi in fausta o probabilmente sfavorevole spette il 100% teniamo presente che non bisogna allarmarsi quando si ha una patologia neoplastica e la commissione dopo qualche mese riconosce il 100% non è una condanna a morte è soltanto una valutazione fatta durante il periodo di follow up cioè il periodo iniziale quindi di conseguenza le commissioni sono come dire più magnanime e riconoscono il 100% perché non è ancora stato superato il periodo di follow up dove durante questo periodo appunto ci potrebbero essere delle ricadute gravi e quindi in quel momento il 100% è facile ottenerlo successivamente questa percentuale scende a maggior ragione scende se non ci sono per esempio neoplasie o quant'altro quindi se non ci sono dei rischi correlati alla patologia principale oncologica dopo aver risposto all'ultima domanda vorrei leggere un'e-mail che ci è giunta da Positano dalla provincia di Napoli buonasera vi seguo sempre su Padre Pio TV volevo un'informazione a mio figlio per mio figlio ha l'invalidità al 55% per il diabete con annesso 104 si riferisce alla legge 104 del 1992 può suffruire del congeto per cure se sì come può fare grazie anticipatamente a questa signora che proprio poche ore fa abbiamo contattato telefonicamente perché ci siamo fatti mandare un recapito telefonico abbiamo chiesto dei chiarimenti lei ci ha spiegato che il figlio per colpa di un diabete tipo 2 diabete mellito tipo 2 ha il 55% di invalidità civile però lavora a questo punto le abbiamo detto che la legge riconosce il congeto per cure fino a un massimo di 30 giorni va inoltrata la domanda al datore di lavoro tuttavia la domanda deve passare attraverso un medico di famiglia o medico di base o medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale è sempre la stessa persona fisica questo medico deve rilasciare un certificato online che attesta che le infermità riscontrate in sede di visita medica sono tali da consigliare quelle cure mediche facciamo un esempio le cure mediche per esempio termali non possono essere consigliate a uno che ha una patologia di carattere psichiatrico anche se questo lavoratore ha più del 50% di invalidità civile va da sé che non ha diritto a cure mediche di quel tipo quindi le cure mediche devono essere afferenti alle infermità riscontrate sul punto vorrei leggere proprio una interessante comparsa dell'Inps che fa proprio riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo 119 del 2011 il quale dice che va fatta la richiesta al medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta attenzione in relazione vuol dire che l'infermità riconosciuta dal verbale deve essere attinente usiamo questo termine deve essere attinente quindi le cure termali si possono prescrivere fino a un massimo di 30 giorni quindi a carico dell'Inps e l'Inps che paga solo se sono collegate con patologie reumatiche patologie deambulatorie e questo è un po' il discrimine che va tenuto conto seconda parte di chiedi a noi con il dottor Massimiliano Casto in fisco economia e famiglia tratteremo come sempre i temi legati a questi argomenti che voi amici telespettatori avete soprattutto nel corso della pausa estiva evidenziato e sottoposto alla nostra redazione tra questi il tema che sicuramente ha suscitato più interesse da parte vostra è quello relativo al cosiddetto lavoro domestico e allora vogliamo chiedere al dottor Massimiliano Casto quali sono le novità al riguardo carissimi carissimi amici dopo la pausa estiva bentornati a questo spazio dedicato al fisco tantissimi telespettatori in questo periodo ci hanno scritto hanno dimostrato il loro affetto e la loro stima ma soprattutto l'interessamento verso questo spazio verso questo appuntamento dedicato all'economia al mondo fiscale tributario italiano tantissimi telespettatori mi hanno chiesto di affrontare l'argomento che nelle passate edizioni abbiamo già largamente affrontato ritorno molto volentieri sull'argomento visto che è stato di sicuro interesse e parliamo del rapporto di lavoro domestico soprattutto tanti amici ci hanno chiesto come appunto funziona l'apertura di un rapporto di lavoro domestico quindi come si fa per assumere una corf o una badante bene già dal 2009 è in picore la procedura per cui una domestica quindi una corf o una badante deve essere assunta attraverso una procedura telematica che viene posta in essere dal sito dell'INPS e deve essere fatta almeno il giorno prima quindi il giorno antecedente dell'inizio del rapporto di lavoro questo a prescindere che appunto si tratti di corf o di badante sappiamo che la differenza è importante perché la corf è con lei o colui che in effetti si occupa della custodia della casa di tutte le faccende domestiche invece la badante o il badante è colui che si occupa di assistere delle persone che magari sono anziani sono sofferenti ma potrebbero essere dei bambini o comunque delle persone in linea generale per quanto riguarda appunto l'assunzione abbiamo detto che c'è uno spazio dedicato in una sezione dedicata appositamente dall'INPS che appunto si chiama servizio di lavoro domestico bisogna ovviamente registrarsi dopo aver indicato i dati del datore di lavoro e del dipendente che vogliamo assumere ribadiamo che deve essere fatta questa procedura il giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro e devono essere indicati oltre i dati anagrafici ma anche il luogo dove verrà esplitata l'attività lavorativa l'ammontare delle ore settimanali e ovviamente la ridribuzione che viene pattuita con il lavoratore o la lavoratrice questo ovviamente soltanto quando si tratta di un lavoratore italiano oppure appartenente ai paesi dell'ambito europeo quando invece dobbiamo assumere un cittadino extracomunitario dobbiamo fare particolare attenzione questo perché ovviamente perché ci sono delle norme sull'obbligazione molto molto rigide e sapete che il cittadino extracomunitario per poter lavorare deve essere in possesso del famoso permesso di soggiorno è un permesso rilasciato dalle questure di competenza dove ha la residenza del lavoratore e quindi quando vogliamo assumere questo lavoratore dobbiamo chiedere di visionare il permesso di soggiorno che deve essere ovviamente per motivi di lavoro e ovviamente non deve essere scaduto nella sua normale scadenza del naturale del permesso di soggiorno che normalmente ha una durata biennale a meno che si tratti di una carta di soggiorno che normalmente non hanno più scadenza per quanto riguarda invece un cittadino se vogliamo appunto assumere un cittadino extracomunitario che ancora non è presente nel territorio nazionale allora dobbiamo aspettare il famoso decreto flussi il decreto flussi è un decreto che viene emanato dal ministero dell'interno annualmente normalmente viene fatto all'inizio dell'anno e fissa appunto le quote di ingresso di cittadini extracomunitarie che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro c'è una fase di registrazione che questa invece viene fatta nel sito del ministero dell'interno e dobbiamo attendere il nulla osta che viene lasciato poi dallo sportello unico per l'immigrazione che è presente in tutte le prefetture italiane e dopo aver ottenuto questo nulla osta al lavoro allora in questo caso il cittadino extracomunitario può fare ingresso in Italia e soltanto quando poi è presente nel territorio italiano allora possiamo assumerlo sempre attivando comunque la procedura di assunzione quella dell'Inps che dicevamo poco anzi ripetiamo che questa procedura deve essere sempre attivata il giorno prima quindi il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro poi ovviamente il rapporto di lavoro è un rapporto tradizionale di lavoro dipendente quindi il lavoratore o la lavoratrice ha diritto sempre alle ferie nella misura di 26 giorni l'anno che sono distribuite su 2 giorni per ogni mese di attività lavorativa ha diritto alla tredicesima ha diritto a tutta la casistica per un rapporto di lavoro dipendente tradizionale ovviamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro a prescindere che si tratti di una dimissione quindi una richiesta di dimissione da parte del dipendente oppure un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo da parte del datore di lavoro comunque c'è sempre il diritto per il lavoratore o la lavoratrice ad ottenere il famoso TFR il trattamento di fine rapporto o liquidazione questa liquidazione è appunto un'indenità che matura ogni anno di effettivo servizio alle dipendenze del datore di lavoro normalmente viene calcolato sommando la retribuzione e dividerla naturalmente su base anno e dividerla per un coefficiente fisso che è 13,5 questo naturalmente rapportata per ogni anno di servizio una cosa molto importante è invece la quantificazione dei contributi che il datore di lavoro deve versare all'IMPS e in misura trimestrale ogni anno viene emanata la circolare IMPS che appunto determina l'ammontare dei contributi orari sia per quanto riguarda le confriche e le badanti per quanto riguarda il 2019 dobbiamo fare riferimento alla circolare IMPS numero 16 del primo febbraio del 2019 che ha appunto fissato l'ammontare dei contributi orari per quanto riguarda l'attività lavorativa prestata da una confriche o una badante una particolarità che potrebbe essere una agevolazione è il fatto che comunque quando la lavoratrice o il lavoratore supera le 24 ore settimanali allora l'ammontare dei contributi orari addirittura si riduce nel suo ammontare questa potrebbe essere un'agevolazione ma un'altra agevolazione che potrebbe essere concessa ai datori di lavoro che appunto regolarizzano e che comunque hanno le dipendenze un lavoratore o una lavoratrice nell'ambito del settore domestico è il fatto che comunque la retribuzione ma anche i contributi possono essere detratti in una determinata misura dal proprio 730 oppure dal modello unico che quest'anno ha preso il nome di modello redditi persone fisiche quindi è sempre opportuno quando abbiamo le dipendenze una colfa o una badante tenerla in regola perché appunto nel caso in cui in caso di controllo di verifica da parte degli organi ispettivi che potrebbe essere l'INPS che potrebbe essere rispetto al lavoro nel caso in cui viene trovata una lavoratrice in nero potremmo incorrere delle sanzioni abbastanza elevate ovviamente ci sono anche degli incentivi in tal senso proprio per per evitare che anzi per incentivare appunto il dottore di lavoro a regolarizzare a tenere in regola questi lavoratori o queste lavoratrici bene per oggi è tutto noi vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana io comunque rinnovo l'invito di sempre cioè quello di scriverci alla mail oppure alla mia mail personale in modo che io possa rispondere ai vostri quesiti a vostri dubbi sempre nell'ambito previdenziale ma anche nell'ambito fiscale e tributario bene è veramente tutto alla prossima settimana arrivederci bene ringraziamo anche il dottor Massimiliano Casto che ritroveremo la settimana prossima intanto vi invito come vedete su questo riquadro a contattare la nostra redazione per le vostre domande per suggerimenti anche sulle tematiche che ritenete più opportune sviscerare all'interno di questo nostro settimanale grazie ancora per l'attenzione alla prossima settimana grazie a tutti